Non c'è dubbio che Gaza sia tra le persone più amate nel nostro paese. Gaza è al centro della Gazamaria. Parte del suo genio è la sua vulnerabilità. Senza quella sua spensieratezza, senza tutte quelle cose che sappiamo di Gaza, non credo che sarebbe diventato il giocatore che è stato. La tua posizione per molti sarebbe un sogno, ma può anche diventare un incubo. Sull'aereo si avvicina Gary Lineker e mi dice... Paul, sta a tempo. Gascogne diventerebbe il calciatore più ricco al mondo. Fu la partita con l'Olanda, quella in cui Gaza è emersi come talento di livello internazionale. Sono stati momenti in cui un intero paese ha pianto con un calciatore.